Riccardo Goi, Ravenna che non si ferma più, intervittoria consecutiva del campionato, settima, secondi anno anche challenge, Ravenna che si mantiene per la vostra play-off stasera, la vittoria sesta negli ultimi precedenti. Sì, è un bel periodo per noi, impegnativo perché stiamo giocando veramente tanto, però stiamo facendo bene, stiamo trovando dei risultati. Ormai mancano tre partite, quindi sapevamo di venire qui, per noi era fondamentale portare a casa i tre punti per questa corsa ai play-off. Sapevamo che dovevamo metterci tutto per cercare di vincere, perché comunque nonostante il campionato, Vibo è una buona squadra, già visto a Modena 3-2, quindi niente, bene, siamo contenti, è un buon 3-0, adesso vediamo le prossime partite che dobbiamo cercare di entrare in play-off. Possiamo dire che una delle chiavi o la chiave di questa unghie è una parte del battuto con la difesa? Sicuramente, penso che il periodo di flessione che abbiamo avuto sia stato anche un po' perché siamo calati in quei fondamentali e di conseguenza poi ci siamo portati dietro anche la fatica nel cambio palla, però penso che in battuta siamo veramente una buona squadra. Quando giochiamo è dura per tutte le altre squadre e poi il muro di difesa vengono di conseguenza, quindi penso sia proprio la forza di questa squadra. No, non lo faccio, sinceramente sto pensando veramente, sono sincero, ai play-off, voglio andare ai play-off come tutti i miei compagni, sarebbe veramente una grossa soddisfazione per questo gruppo e poi ci sono altri liberi bravissimi, quindi insomma io per adesso cerco di aiutare la squadra ad andare ai play-off e poi vedremo. Grazie. Grazie a voi.